Un campo da calcio femminile e un campo da calcio costa 200.000 euro Vabbè metti dei cinesini che fanno il calcio No, no, non ho capito perché devono essere cinesini adesso Quando possono essere di qualsiasi etnia e perché iini Pakistani Tra l'altro, pakistani, pakistanomi Quanto vuole far lavorare il proprio popolo? Secondo me non è completamente una battuta quella di Tahir Secondo me non sa cosa è un cinesino Lo sai cosa sono i cinesini? Ssss Ah cazzo, è vero, ho frainteso tutto Allora, non c'entra niente quella legge del secondo figlio Che hanno matto in Cina Ti dico solo questo Se ascolti trattieni le lacrime, fatti insultare a morte da Tahir e ravide Non benvenuti nel posto più malato, nel podcast più deviato risposta a chi ci ha odiato Noi siamo delusi, stronzi, cattivi dei velenosi serventi Studiamo odio su tutti, ma abbiamo anche dei difetti I più permalosi, ossia trastevere Guarda mentre il tuo podcast diventa cenere I tuoi vestiti diventano stracci Stracci, stracci, mortacci Buongiorno Buongiorno a tutti Benvenuti nella nuova puntata di Mortacci Io sono Ravide Io sono Tahir E loro due chi sono? Io sono Flavio Ok, tu? Io sono Giulio E come potrete notare da questa maglietta di Tahirovic che non si vede E da quel cartello là Che riflette la luce, non si vede mai L'abbiamo messo, quindi Questo non vuole essere un podcast maschile, del cazzo, e soprattutto romano Quindi abbiamo deciso di invitare Il calcio della S-Roma, i meme del calcio della S-Roma Chic Posting Ciao ragazzi, grazie dell'invito innanzitutto È bello essere qui Diciamo le cose da intervista calcista Ovvio Io direi di partire con un brindisi Con un brindisi Un brindisi a questa nuova puntata E io dico nuova perché non so se uscirà come seconda Ci dobbiamo guardare tutti Abbiamo fatto un macello Flavio È frascico Abbiamo fatto per noi questo bel tavolino Ricordiamo sempre, questa è Sprite al Gin Sprite deliziosa Sprite al Gin Sprite al Gin Sprite al Gin Giusto Come avevamo detto nell'altro episodio Tipo il bagarre di Breezer Quello registrato qualche giorno fa immagino Sì, era una settimana fa precisa Non era prima No Prima sì In ordine di tempo Non mi sono assolutamente cambiato solo la maglietta Quell'episodio postumo Io ho staccato il logo Non ho messo un altro Non è successo questo E infatti no Perché c'è la maglietta Esatto Ovvio Anche quello non c'era È palese che quello ci vuole una settimanella per farlo La maglietta di Dairi Ce l'ho dovuta comprare su e pay Perché non la vendono più Dei vecchissimi guerri sportivi Sì, li abbiamo trovati qui Qui Dove? Alla rummeria Trastevere Questo è un grandissimo gancio da podcaster professionista Un posto incredibile Incredibile Ragazzi Qui cominciamo subito Cominciamo a parlare di calcio Io la domanda che vorrei fare Ecco Dair, cos'è il calcio? Allora il calcio Dair manco agli ospiti Il calcio è Sì, sì, mi piace Non se l'aspetta così Un gioco Un gioco Per te è un gioco Per te è un gioco Adatto per grandi e piccini C'è un Grandi e pulcini Piccini quanto? Perché se non deambuli è complesso Anche se ultimamente mi stanno facendo ridere Un sacco di meme Quelli di Project Mbappé I papà che prendono i bambini neonati Che non si muovono Gli tirano la palla Gli tirano le crine sul mancino E vede se c'hanno il tocco Le palla di Di Maria, capito? Allora, sì Diciamo questa cosa Io di calcio non capisco un cazzo Sono solo ludopatico Quindi da una settimana Mi gioco le schedine E le vince E le vinco Anche se ieri ho perso No, non lo diciamo Non lo diciamo Il ludopatico non lo dice mai Non lo ammette mai Sono tutto a se stesso L'ho ritirati Non pensa di avere un problema Hai perso Ma perché t'ha detto male Ma comunque ci siamo divertiti Ma l'importante è questo Ah, guarda C'hai la mano aperta Per il pugno che hai dato sul muro Non so quanto ti sei divertito No, no Senti No, io invece chi siete? Che fate nella vita? Perché siete ospiti? Come siamo arrivati qua? Non lo so Era aperto Essere imboccati Soprò una bella situazione Una delle mie barzellette preferite Quella tra l'altro Quello che entra in salumeria E dice Dottore, dottore Penso adesso una falena Sì, ma guardi È entrato in salumeria Che ne so Ho visto la luce accesa Che incredibile Incredibile E ragazzi Abbiamo già un cazzo L'avete capito È una pagina di meme Si vede che Sono passati due settimane Perché guarda che ritmo c'è In calzante È già più divertente È tutta una risata Incredibile Dai, seriamente Chi siamo? Giulio Non guardare Giulio Ti ho spaventato A lui lo racconto A te lo spiego Io lo so No, noi siamo S1 Chic Posting Pagina di meme Sulla S Roma Una squadra di calcio Ok Di Roma Della città omonima Solo di calcio? Di AS Roma Sì Di base Calcio femminile Perché lo dici come Come se Pro club Niente No C'è una squadra e-sports Penso Squadra e-sports Ma che giocano A COD League of Legends No, la squadra e-sports Della Roma Tendenzialmente gioca E-football Il gioco Di cui la Roma è sponsor E non altri giochi Sul calcio Che io non conosco Tra l'altro è scritto Con la E Si dice I Ma è scritto con la E Esatto Assurdo No, questo Sembra un'app La E-football Noi siamo la Penso la Più grande Pagina di meme Sulla Roma Non che questo sia un vanto Però come L'hai detto come un vanto Quindi ormai è un vanto No, perché il vanto Volevo dire che siamo La più grande pagina di meme Su una squadra di calcio Ma non credo neanche sia vera Quindi ho cambiato Anche noi siamo Di batte tipo Liverpool Nunez Posting Che c'è Di batte Avre Giuventino Gay Penso purtroppo Vabbè Avre Giuventino Gay Possiamo dirlo? Possiamo dirlo Assolutamente sì Ecco qua L'abbiamo detto Ci sarà sicuramente Almeno uno Ci sarà Penso che sì Probabilmente non è una Anzi Inclusività Anzi A noi fa piacere questo Quanto Non vedo perché Però io So delle cose Tipo che voi non avete mai fatto un meme in vita vostra Allora Questo Intanto è tendenzioso Non è una cosa reale Io ne ho fatti almeno due Nessuno dei due sulla Roma No Nessuno dei due in pagina Non è stato accettato dall'admin Siamo dei padroni È una parola che si può usare Gestori Beh oddio Con tire vicino padrone È un po' pesante come termine Dipende dai Perché sono il tuo padrone Effettivamente Ecco qua Schiocco le dita E butto giù tutto Eh Schiocca le dita E butti giù tutto E tu nonno Noi siamo degli amministratori Dei gestori C'è questo Grande gruppo chiuso Che si chiama Schick Con le stanghette in mezzo Non posso farvi lo spelling Perché è un macello Fallo Ok S Ok H Stanga 1 I Stanga 2 C K Ragazzi Più facile di così Preparatissimo Come se non fosse il suo lavoro Solo che adesso C'è anche scritto Tipo gruppo di riserva Perché ci hanno Di riserva di riserva Gruppo di riserva Aperta parentesi Gruppo di riserva Gruppo di riserva Perché mettete le cose gore O semplicemente perché insultate La S romana È già abbastanza gore Guarda L'ultima volta ci hanno bannato Per una mutanda Che era photoshoppata Con il muso di un lupo Sì E l'algoritmo L'ha riconosciuto come nudità Io non sapevo come argomentare Pensavo come violenza sugli animali No nudità Io ho detto È letteralmente un lupo È letteralmente un lupo È una testa di un lupo Non so come Però messo in zona pelvica Poteva sembrare Evidentemente Un pub molto peloso Sì Che annusa Con due buchi No comunque Inizialmente noi facciamo Meno meme di quelli che vanno in pagina Cioè la produzione nostra Personale Originale al 100% È molto bassa Effettivamente voi non fate un cazzo Cioè voi prendete i meme dal gruppo Quindi Pure questo è tendenzioso Sì e no Nel senso Quelle affermazioni non mi piacciono Siccome me ne occupo io della pubblicazione Per la maggior parte Che cosa fa allora Flavio Cioè se i meme non li fa Questo anche è tendenzioso Ragazzi smettete una gangbang contro Flavio Non l'approvo questa cosa Io parlo alla persona poi che non capisce di calcio No no Flavio si occupa tutta la parte Che non capisce Che non capisce Tutta la parte amministrativa e organizzativa Della pagina se ne occupa lui E io mi occupo per la maggior parte Della parte Della pubblicazione social Tranne durante le partite Che lui si occupa Della parte di community management Quindi si sta a rispondere Che cazzo è Ma parla Romano Si sta a rispondere ai direct Subito dopo le partite Nel frattempo che io preparo La gallery Perché noi pubblichiamo Una volta al giorno Tendenzialmente Fa tutto il gruppo Quindi noi effettivamente Passiamo ogni tanto con la frusta Come facevano i nostri antenati Con il Banhammer I gruppi con il Banhammer Quando c'era Quando c'era Quando avevo un modem Che facevano Però si Al massimo Guardo un meme Che c'ha una bella idea E lo rifaccio Fatto meglio Onesto Tanto a rubarli Rubavo comunque Appropriazione di contenuti Tanto lo facevo comunque Quindi almeno Perché tu C'hai Photoshop Invece loro li fanno Su Canva Loro li fanno su PixArt Con il formato Che non mi piace Esattamente quello che fa Ravide Cosa dire Noi ci divertiamo Possiamo sintetizzarla così Ma vi dividete quindi Il compio Un 50 e 50 Ah non come facciamo qua Quindi Maia Non è un 90-10 No No assolutamente no Ci dividiamo Il 10 Ah no Io faccio il 10 No 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 Si capisce che Tair Sta facendo tutto Cioè guardate La scenografia Che in realtà Manco l'ha fatta Tair L'ha fatta una persona Che noi rispettiamo Tanto dietro la telecamera L'ha fatta la vigna Dietro la telecamera C'è sempre lei Sta anche annuendo Con fare minaccioso Siamo che è più o meno Come fate voi Cioè il mio 50% È diviso 50 e 50 Quindi Più a meno Con Giulio Come sei Il suo 50% Io sono socio a tre Con meme medesimo Ma come vi siete beccati Cioè vi conoscerai Io ho questo sogno E voi siete amici di infanzia Ma lui ha scoperto internet Prima di te Ha scoperto i meme Prima di te Tu lo piavi pure un po' per culo E potete dire anche l'età E invece poi Ti ha tirato in mezzo A questa cosa Partendo dall'età Il fatto che fossimo amici di infanzia Non è possibile Perché durante la mia infanzia Flavio era in età In galera Probabilmente se fosse stato amico mio Sarebbe stato arrestato per pedofilia Ti hanno dato 20 anni Pure questo Io so dire che è tendenzioso Anche questo Però vabbè Un uomo dell'età di Flavio Amico con un bambino Tipo me Sarebbe stato molto particolare Poi mi offriva le caramelle È un casino Ragazzi Io il 18 dicembre Compirò 33 anni Ma non è una colpa È mio malgrado È successa questa cosa Non è assolutamente colpa Sono cose che Purtroppo Succheranno Come ci siamo conosciuti Allora Noi eravamo in un gruppo Che si chiamava Dzeko Sempre con le stanghette No lo conosco bene Quel gruppo Ma che è sta cosa Delle stanghette Non lo so perché Ma che cazzo Aveva inventato I pronomi Prima dei pronomi Sì era una cosa I miei pronomi sono Dzeko All'epoca 2018 Non potevi Aprire un gruppo Di shitposting Senza mettere le stanghette A rompere la parola Non lo potevi fa Cioè tu saresti stato T-A-H Stanga I Stanga R Che il nome è tuo Te alla nagra Ti sei registrato Però con due stanghette L'er Cioè No Un'altra stanga ci vuole Hit il nostro grafico Intendevo Che ringraziamo Ovvio ringraziamo E quindi eravamo in questo gruppo Poi Questo gruppo Dzeko era la punta della Roma Al tempo Sì La punta è l'attaccante Io ero rimasto Fosse un rettile Di piccole dimensioni No Questo è scritto DZ Perché Non è un rettile È uno slavo Siamo là A proposito Ecco qua Quindi C'era questo gruppo E faceva meme In generale Di shitposting Da Veramente Girava da Flavienzina E l'Abbrio Blu Alla Roma E quindi Si è creata Questa cosa Il crotone Esatto Budimir Mamma mia Ante Budimir A proposito Non c'entrava niente Con la Roma Però c'era il nome Di un giocatore della Roma E quindi piano piano Col tempo Si era riempito Di tifosi della Roma Ovviamente Si chiamano romanisti Nel calcio Non romani I romani Sono i cittadini Non li confondere Con quelli della regione Lazio Non sono i laziali Quello è un'altra cosa No 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 Allora Non sono l'uno di calcio Ma so che Solo tipo quelli De frascati in poi Sono della Lazio No ce n'è anche qualcuno Dipende con quelli in poi Si nascondono Cioè è una macchia Che si espande Dal centro di Roma È concentro Quindi a nord Est Ovest Sono abbastanza sicuro Al centro di Roma Non ci deve essere C'è qualcuno Nella Lazio Qua No qualcuno È come i rosci Una comitiva Ci deve essere sempre Capito Fa Fa colore Fa Quindi noi Stavamo dentro A questo gruppo E un giorno La Roma decide Di vendere Sto Dzeko Al Chelsea E quindi Succede il panico Nel gruppo Perché oddio Come facciamo adesso Tocca cambia nome Che nome diamo Allora La riserva di Dzeko Era Schick Chiamiamolo Schick Chiamiamolo Schick Chiamiamolo Schick Però questo gruppo Non era sulla Roma E anzi Agli admin A quelli che ci stavano Da prima Un po' glielo Deva pure il culo Che se facciano solo meme Sulla Roma E quindi loro Per prendere in giro I romani Che erano entrati nel gruppo Cambiò il nome I romanisti Giulio L'abbiamo appena spiegato Giulio però Così mi proprio confonde Giallo vedi in difficoltà Guardalo Mi fate finire Siccome i romanisti Sono per la gran parte romani Si era riempito di romani Loro per prendere in giro Tutti quanti misero Come nome Cesaroni Posting Che comunque Me fomenta Me fomenta Però non è sulla Roma Cioè mi sta a prendere in giro Perché sono romano Capito Romanista Vabbè non è su Volevo confondere io a te Stiamo sul pezzo Il romano si educca E quindi In che senso Mi consenta Andiamo avanti Andiamo avanti Una piccola Una digressione Ok che c'è il gin tonic Ma non c'è nient'altro Non è gin tonic C'è sotto il gin tonic Spryte gin Ragazzi questo non è un gin tonic Una sprite gin Sprite gin Sprite briser Quindi praticamente Un amico mio dell'università Ha scritto agli admin di questo gruppo Dicendo Senti ma visto che voi i romanisti Non li volete Possiamo fare un gruppo a parte Dove ce li accogliamo noi Sì Giacomo è andato via A nome del gruppo Chic Apre il gruppo Admin Lui Io E un altro amico nostro La domanda è Lui da dove è uscito fuori Esattamente quello che mi sto chiedendo E soprattutto Io non voglio sapere Dove è arrivato L'eroe Io voglio sapere Gli altri due Che fine hanno fatto Ma per motivi di tempo e lavoro Me la stai Me la stai a dire La cazzata Sono stati fatti fuori Ho visto la luce nei tuoi occhi Spegnersi Quando te l'ho chiesto Possiamo dire È stato un incidente Diciamo Non c'è In inquadratura Ma io sono legato Alla caviglia Giulio È passato in prescrizione Gli altri due Oggetti di sua proprietà Adesso Hanno delle scarpe Pesantissime Che stanno A ballare Con Sebastian Ma Sebastian Il granchio della sirenetta O il delfino smacchia balene Di Shark Tale Non ho visto Shark Tale Te vedi a Roma E te vedi Shark Tale Cosa rega Shark Tale E la s Roma Se non The Shark I bagnes Ma immagina Flavio A 38 anni Dentro al cinema A vedere Shark Tale Con tutti i bambini Con quelli Il bambino vuoi un po' di popcorn È proprio come me lo immagino Metti la mano Dentro al mio cesto Dei popcorn Alle tue descrizioni Oh frego Non parliamo di cinema Non parliamo di cinema Non fare saluti Non possiamo più Parla a sinistra La sinistra No Gli altri due Alla fine Quando c'è stato Da investire C'è tempo e soldi Perché poi Adesso noi siamo multimilionari Come saprete Ma al tempo C'era da metterci sopra Dei soldi La manetta che vi lega In cosa investe Dei soldi Una pagina No veramente Per chiedere Noi abbiamo fatto Merchandising Ok Quindi abbiamo pagato Degli adesivi Che regalavamo Quindi A business plan Completamente a perdere Perché Tu pezzenti Merchandising Deve essere Una chic post No Vabbè Quindi C'era Non so che è stata Dica Aiutatemi Aiutatemi Quindi sì Merchandising Vabbè Questi non c'erano Dieci euro Da stecca Il discorso era che Ci dovevi perdere tempo Di lavoro Perché andavamo a fare Le serate Andavamo a dare cose E Riccardo proprio Ci disse al tempo Io se non ci tiriamo Su niente E mo Riccardino Mo Ti stai mangiando Le mani Riccardino Lo sappiamo La casa alle 6 shell Te la potevi comprare Adesso invece niente Abbiamo solo A proposito Diciamo Noi Ora perché stiamo Registrando questa puntata Prima Ma io e te Non so A questo punto Penso anche voi Ora se non ci siamo Stai a fare una figuraccia Stai a fare Ok No però Io e Ravide Saremo alla presentazione Della terza maglia Della Roma Ebbene si Avrò un modo di Abbracciare sessualmente Paolo Di Bala Perché io sono stato invitato E invece portare una pischella Rimorchiare così Ho detto Ma fammi chiamare Questo mio amico Romano Slash Roman Slash I Slash Sta Bravo Bravo Giustissimo Ricordiamo che è dell'Inter Davide Mamma questa cosa Convinto per un anno e mezzo Fosse dell'Inter Flavio ancora dice Che sono interista Che è il più grande insulto Che tu mi possa fare Preferivo Guarda Non lo dico Preferivo Altri insulti Il mio cervello A un certo punto Nella nostra storia Però c'è là un po' Dell'Interista Il mio cervello Ha partorito L'idea che lui fosse Interista Ma forse Travisando qualcosa Sto sudando No perché fa caldo Però sto sudando anche Per il discorso Dell'Interista Interista credo sia L'insulto peggiore Dopo Dopo No ce ne sono tanti altri Io e Flavio abbiamo anche una lista Sì La Interista Una lista di insulti Di insulti poi Dei soprannomi Poi vedi Leggiamo ma non possiamo farlo in diretta Assolutamente Né registrato Non si può fare Non si può fare Fidati di me Possiamo però fare un contenuto Solo per TikTok Con questa cosa Chiaramente Non lo so Non so quali sono le polisi Di TikTok A noi pubblichiamo anche su Pornhub Lì Sono un pochino più Lì diciamo che è un insulto Che racchiude all'incirca Una sola categoria Ma descritta in circa 70-80 termini diversi Più di 100 Ogni tanto viene aggiornata questa lista Quando a qualcuno viene in mente Un nome nuovo Copia la lista precedente Incolla e aggiunge il nome nuovo Sì ma devi dire Chi è la vittima Diciamo gli omosessuali L'ha detto lui Ah vabbè gli interisti Esatto Gli interisti Prendo le distanze da tutto ciò Io mi dissò da Milano Brand che lavorate con me Io prendo le distanze da ogni cosa Brand che lavorate con me Stessa cosa Abbiamo dei brand che lavorano No nessuno vuole lavorare con noi Per cui Quelle piccole scaramucce Non so se si può dire Non lavorate con la Roma voi No La Roma assolutamente non vuole dire Negherà sempre Cut No no Roma e chicposting Sono due strade parallele Semplicemente Ma come sono due strade parallele Chicposting E la curva sud Possiamo dirlo Ma quello dipende Nel senso che sappiamo Che ci sono anche I tifosi della curva sud Che a prova Capiscono che noi abbiamo Diciamo uno scopo Perché stai tremando Come una foccia Non ho capito La possiamo tenere O la tagliamo No no Si può tenere Il discorso è che Per noi è difficile Perché molta gente vive La Roma Noi la viviamo molto A ride A scherzare Fa autoironia Quando le cose vanno male Fai autoironia Cioè io pure L'infanzia mia L'ho passata così Quando i amici suoi Mi bullizzavano Ho visto come vivo Molta gente vive L'ostiamare Non mi stupirei Se adesso Per la Roma Usiamo chic Chic è nato Per sdrammatizzare Quindi C'è chi capisce Che noi sdrammatizziamo E non perculiamo La S Roma E chi invece Pensa che perculiamo La S Roma Cosa che non facciamo Entrambi molto tifosi Tifosi malati Quindi quando la Roma perde Ciro del culo Posso dirla? Puoi Come Cioè ci viene il sedere Come una bandiera del Giappone Adesso visualizzatela Cioè del bianco intorno E al centro Un grosso Punto rosso Perché proprio del bianco intorno Appunto Se no sarebbe la bandiera del Bangladesh Se tu fossi verde Se tu fossi verde Sì E quindi no Quello che dicevo è che Non so se è a bandiera del Bangladesh È verde col patrullo Non mi sa Sbagliato il paese No no Bangladesh Come è a bandiera del Bangladesh Scusa ma sei pure il paese tuo È il Giappone peg Il Bangladesh è il Giappone peg Quindi Quanto mi soffre Tair Non c'è seguito Guarda guarda Ci è arrivato il superiore della regia Ora è qua C'è che Questo è Ma poi non è centrale il pallino Ma chi ha fatto Pazzesco Incredibile Quelli con il disturbo ossessivo compulsivo Non esistono È un alieno verde A cui ruote il culo Ma sta messo un po' così Sempre per la Roma Per la Roma Bangladesh Grossa inclave dei giallorossi La cosa era per dire Che comunque Soffriamo tanto Quando perde la Roma Tant'è che noi facciamo Le telecronache Alla redazione Che salutiamoci Diciamolo E siete bravissimi Lo dico in maniera Grazie Questo lo apprezzo Oggettivo Grazie Quindi insomma Soffriamo tanto la partita Soffriamo tanto la Roma E quindi per sdrammatizzare Esiste chicposting Questo è fondamentalmente Il nostro aim E ve cagano il cazzo Molto Probabilmente se ci avessero A portata del braccio Ci amenerebbero proprio Diciamo la parola con la F No 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 un'altra I fiorentini No No neanche Ma non so tanto loro Cioè proprio Quelli che la vivono male Cioè la Roma perde male Vi cagano il cazzo Più i laziali O i romanisti Più i napoletani Ti giuro È vero È vero Ragazzi non è una battuta Che vuol dire? Perché? Ci vengono a commentare Che siamo dei rosiconi sotto Cioè cose del genere Ma perché? Cioè qual è? Perché? Tu sai che esiste una pagina Si chiama Gli autoironici Però esiste una sola Assolutamente Non permalosi napoletani Cioè non è che dice Ce n'è una per ogni posto Ce n'è una solo per una città Sì sono un po' permalosi Come si dice più permaloso in inglese? Eh diccelo un po' Permaloser Mortacci Mor permaloser Le sei rimasto? Cazzo stavi là Stavi là Permaloser però non era male No troppe situazioni Potevamo dirlo nel primo episodio Il mortacci effettivamente significava Benvenuti al secondo episodio Abbiamo No Non è Benvenuti all'episodio E poi ti dubbi dopo Episodio Sì tra l'altro Ho adottato questa politica Io che ogni tanto mi scordo Di aver adottato Perché faccio inconsciamente Delle cose sbagliate Come quella bambina No Quella non Lasciamo perdere La politica è La parola Napoli Non ci sta mai nei post Né nei visual Né nei copy Né nei tag Le parole con la N No Fate come Lo sai ci sono i blood Dei creep a Los Angeles Sì E i blood Non dicono le parole con la C Ci mettono la B Dovete fare la stessa cosa Invece di dire Le parole con la N Ci mettete la R Dovete fare così No perché Prendete Come Il Rapoli Come Scrive Vabbè No No Scusate Come tu scrivi Napoli Finisci nel feed Di qualche Assolutamente non per maloso Napoletano Che viene al commentare Ci tiene a farmi sapere Che la Roma fa schifo Come se non la guardassi Io tutte le domeniche Non lo sapessimo Benissimo E quindi ci finisca litigata Pure ieri ho messo una cosa Tipo La Roma che fa schifo Però Rudy Garcia sta Sta a rovinare Napoli Concetto di base Romanista fracico Rudy Garcia Allenato di Napoli Che allenava la Roma Ai tempi E ora che è cambiato L'allenatore Sono cazzi Non è più il Napoli Di una volta Brava Ragazzi Hai visto E una volta era Maggio 2023 Maggio 2023 Proprio di novantesimo minuto E lo so perché I microfoni funzionano ragazzi Lo so perché mi ero giocato Gol Col Bologna Come se fa Come se fa Come avete fatto A non segnare Bastardi Ma poi doveva segnare Ma tu lo sai Poi doveva segnare Il Bologna Ma il Bologna In casa Come hai fatto A fare un tiro E non importa In novanta minuti Ragazzi Tahir non sa nulla di calcio Ma davvero non sa nulla Io sono solo ludopatico Sono io Cos'è il fuorigioco Tahir Il fuorigioco È quando ci sono Delle linee immaginarie Sì 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 Quando l'attaccante Supera il difensore In poche parole Con la palla al piede Quando riceve palla Prima di ricevere palla Prima di ricevere palla Dopo In quale momento Quando la riceve Se il passaggio È partito Se lui già stava Dopo la difesa Quando è partito Il passaggio Lui lo riceve Dopo la difesa Posso chiamare Un applauso Signore Voglio chiamare Un applauso Per questa Disamina Del fuorigioco Ineccepibile Permettimi Io ho qualche domanda Da fare agli admin Di essere un machine Possing Sono domande Bellissime Sono belle domande Però se ne prende Lui è la responsabilità Come vogliamo gestirci Facciamo uno e uno Oppure Secondo me Possiamo rispondere corale Bello Intervista doppia Delle iene Capito Innanzitutto porta rispetto Ai bicefali Adesso è due cefali Due pescioni Vabbè Prima domanda Com'è Fare meme E non scoparci minimamente Te non ne hai idea Di come sia Appunto Questa cosa Questa sensazione Sì Com'è Bello Dai Allora Tendenzialmente Secondo me Il problema Non è tanto I meme Che facciamo Dimmelo te Io ho detto No perché lui sa Che ci scopo E quello è il problema Lui è così onesto Nei miei confronti Che non riesce Ad andarmi conto Io siccome questa domanda L'avevo già preparato La risposta Tu ti sei letto Io c'avevo il telefono Sbloccato E ti sei letto Solo la prima Non ho letto Solo la prima Ho letto E la risposta Ce l'avevo Che tendenzialmente Il problema Non è tanto La nostra Utenza Che è prettamente Maschile Cioè parliamo Tipo del 93% Dei follower maschi Ma il fatto Che secondo me Il limitante Di tutto questo È il fatto Che io non sia Omosessuale Cioè se fossi omosessuale Probabilmente Ci scoperemmo Comunque Cioè noi In realtà Tra di noi Consumiamo rapporti puntualmente Quindi cioè Auto Erotismo No Tra me e lui E' autoerotismo Vi guardate Quindi comunque Facciamo sesso con i meme Ok vabbè Non voglio Non è vero No a partire di schiesti Però secondo me Tipo Non ce l'avete qualche Romanistella Tipo pazza Infatti dai Una sefardita Poi vogliamo spiegare Mi state mettendo nei guai Ragazzi No Flavio no Inizialmente Perché è fidanzato Io ne ho una È romanista Sono tanto felice Ma ti sei fidanzato Con lei per i meme Hanno aiutato i meme No ragazzi Non servono un cazzo I meme sul calcio No non c'entrano niente i meme Cioè anzi Lei metteva like a chic posting Non sapendo che fossi io Quindi abbiamo fallito Su tutta la linea È così che Flavio Gli ha inviato una foto Del suo membro Bisogna fare Un content brand Un po' diverso Sì Tendenzialmente è quello Il concetto Cioè magari facciamo Ritenziare Te la posso dire C'è anche chic Quindi foto di voi In smoking Con però Il dettaglio giallorosso E l'hai scopata Sì Ma ci hai visti bene Ma quello è il potere di internet Cioè Se ci riesce lui Ci riesco io Non vedo perché no Per carità Come scusa Però la faccia nostra Non c'è mai Se ci riesci tu Ci riesco io Non vedo perché no Ah ok Già la vedevo la frecciatina Con tutto l'arco Mi stavi a tirare Vabbè non c'è problema Io però avrei una domanda seria Vai Perché questa non era seria Cioè La mia vita sessuale Non è seria per te Questa era serissima Ok Ora passiamo alla domanda seria Voi utilizzate spesso Il termine Sefardito Sì Effettivamente Io non so Che cazzo vuol dire Molto lo spiegano Ma non è la minima Spiegate cosa significa E da cosa deriva Allora Qua ci sono io Questa è la mia storia Ragazzi La lascio a lui La tua vita è cambiata Sì sì Capovolta No non è finita ancora Capovolta Quella è finita in un'altra Allora ragazzi Il sefardito Cos'è il sefardito Da Wikipedia I sefarditi sono Gli ebrei di Spagna Non l'ho usato Però ragazzi Così è complicato Ha detto la parola Con la Ora Avevamo detto che non si poteva dire No un saluto alla comunità Intanto Un saluto alla comunità A mano aperta No Un saluto con la mano sinistra Con la mano sinistra Allora Mamma mia Questa è No E c'era puntata in due minuti Questa non si taglia Questa non si taglia Allora ragazzi Un saluto Un saluto con la testa a punto Va bene Sono ragazzi Allora ragazzi Quindi Flavio Si dà il caso Che un Canto popolare Storico Della Roma Dica Che si chiama Campo Testaccio Reciti ad un certo punto La frase Quando che incomincia La partita Ogni tifosetta Se fa ardita Quindi Si galvanizza Si casa Capito Quindi Cosa successe Cosa successe All'epoca Che Gli abitanti del Lazio Che tifano la squadra Che si chiamano la regione Fecero degli sticker Offensivi Con Una Con Con Anna Frank Con la maglia della Roma Quindi noi siamo andati A sovvertire Completamente Loro volevano dire Romanista ebreo Come fosse un insulto Mi ricordi Chi era Anna Frank Anna Frank era Una ragazza Brutalmente assassinata Durante la seconda guerra Stai ridendo Non so la storia No no Mi sento ignorante Ma non ho Dalla reddita Mi sento ignorante Non voglio rimanere ignorante E' quella ragazza Assassinata Durante la seconda guerra mondiale Che scrisse un diario Diventata famosa Perché Aveva riportato Tutti gli avvenimenti Successi Mentre era rinchiusa In Una soffitta Una soffitta Soffitta E' quella parte sopra Le case Dove si mette Perché mortacci E' anche informazione Soprattutto Grazie per l'informazione Informazioni che sono Mi mancava Quindi Mettono questo stickers I laziali Come insulto ai romanisti Per dire romanista ebreo Che poi che insulto era? Una ragazza Che è stata brutalmente assassinata? Più che altro E' che loro c'è giovano Su sta cosa Come se fosse Un insulto Quindi noi Per risposta Dire proprio Gli avete fatto degli sticker Con Hitler Con la maglietta Della Lazio No 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 Perché l'avrebbero Appensato Infatti Mazzia Su Io Mazzia Su Mazzia Mazzia Pardita Per la prima volta When incomincia La partita Con la foto Di Anna Frank Lo misi sul gruppo Fece molto ridere Partì Like E così Banno da 30 giorni Su facebook Perché Non è finita qui Perché questo meme Poi entrò nella leggenda Perché Sparito io 30 giorni da facebook Cosa faccio? Detto Questo meme Era totale Lo devo pubblicare Di nuovo Però dico Devo trovare un artificio Per Non farti Perché aspetta Qual è la cosa Da bannare Che facebook Aveva l'autobann Per la foto Di Anna Frank Ok Anche se tu La mettevi scrivendo Sì Terribile gesto Quello che hanno fatto Rimarrai per sempre Nei nostri ricordi Te bannano Ma come Alle torri gemelle Tu metti una foto Delle torri gemelle E scrivi Oddio Che catastrofe Incredibile Rischi di essere bannato Poi magari Sair Non posterebbe mai Una cosa simile Posterei la foto Delle torri gemelle Ci manchi Poi sì Ma è tipo Era Era veramente Un grande Quindi che succede Io Dall'acqua inizia A seguire il calcio E non il cricket C'è la storia Da portare avanti Proviamoci Trovo il modo Di Insomma Trova il modo Di aggirare Il banno Di Zuckerberg Come fai Opto per una maschera Da gatto Impazzisco Conta Ti stavo per dire Gli hai messo Una bandana In faccia Cioè tu hai fatto Anna Frank Scambista Sì Sì È diventata Un'immagine Un'immagine del tifoso Becero romanista Incredibile E quindi Quello che vedete Sulle nostre maglie Compratele E scusate Non abbiamo ancora Il nostro merce Quindi comprate Il loro E poi Finché non esiste Il nostro Comprate il loro Ricordiamo Questa è la decima puntata Quindi magari Sarà già uscito Allora Questa è la seconda stagione Già E quindi Sulla maglia C'è questo Sefardito Che è Tipo il boomer Della Roma Nato poi da un altro Jack boomer Con il cappello da Roma Praticamente Ok Sì No l'ho visto L'ho visto E quello lì invece Veniva da un meme Con spalletti Che diceva Io vi ho portato In Champions League Ho fatto fare il record Di punti E tutto quanto E quello gli dice Metti i totti A coglioni Perché il romano Di stai 50 anni Non vuole niente Se si ha ragione Basta e metti i totti Poi Essendo Essendo il gruppo Una Diciamo Un'immagine del patriarcato Serviva un maschio Per dare il sefardito E la sefardita Non bastava più E quindi PAM Te sta fan assist De quelli epocali Sul patriarcato Sul patriarcato Vai la rovescia Alla pelè Rovescia Alla pelè Rovescia Come rovesciamo Il patriarcato Sì Sovvertiamolo Sovvertiamo il patriarcato Sono d'accordo Sono d'accordo Lo vogliamo Qual è l'infinito Di sovvertiamo Sovvertire Sovvertare Perfetto Sovvertere Sovvertere Allora io vi voglio leggere Alcune delle domande Che David ha fatto Mi piace E mi sono messo Dopo mezz'ora Taer fa questa domanda L'ho letta adesso Non l'avevo letto Ragazzi La S Roma È una squadra di calcio Vabbè L'abbiamo già Appurato Come fate a parlare di calcio Se siete scarsi a calcio Chiederà Io non vi ho visto giocare Io penso che Davide Quella partita lì Ha preso La palla a mezza Le orecchie 57 volte Avete perso Non è vero Avete perso C'era un Martucci E un Piero Completamente pazzo Non è vero Non è mai vero Vergognati Prossima domanda Vabbè la prossima Sono dei pagliacci Questi ospiti Chiamo qui a testimoniare I ragazzi di Serie A MMS Che erano presenti A quella partita Sta più di una pagina Di calcio La Serie A è un campionato Di calcio Appunto Che si sviluppa Nel paese dell'Italia Perché non l'hanno chiamata Italia calcio Perché Serie A La di Italia Se no si deve Che fosse stato Marocco Infatti c'è la Serie O Serie O Non so Stava delirando La Serie O Mastur Allora leggo Un'altra Un'altra delle domande Di ravide Vai Tra due anni Telecronisti Di Dazon O BobboTV Chi dei due È Cassano Quindi ho dato per Allora Scontato Che accettate La BobboTV Vorrei Assolutamente Dire che ho Un italiano ineccepibile Quindi Cassano Forse è Giulio Sì Confermo L'Ele Anche perché Si è già Si è già carato Nella parte Giulio qua Per Cassano Giulio Te l'hai visto Il calcio l'hai giocato Tu hai allenato Tair Tair I quattro Personaggi Che tu hai commentato Con Che ho commentato Con Che ho commentato Con Tair Poi si è in cazza Perché Lui che non parla Vabbè quindi Che è andato a fa' No io farei Tu o Dazon Sarà chiuso Twitch Lo faranno A settembre A settembre Hanno tolti Prime Da i 6-7 mesi Stanno a fare Le mosine a tutti Però Qualsiasi cosa Ci faccia Fai sordi Hanno tolto I Prime Da Twitch Da quel che ho capito Sì Però non so Dovevano toglierli A settembre Non l'hanno ancora tolti Cos'è Twitch Il giorno che li tolgono No Ci dicono Prime Il cognome di O Io mi ricordo Ho visto un video De uno Che diceva Io smetto di streamare Bello Bello Che noi parliamo Per cazzi nostri Loro per cazzi loro Non si capisce Un cazzo Spero che Luca Abbassi Qui c'era la parte Qui c'era la parte divertente Della conversazione Abbiamo detto Che Prime È il cognome di Optimus E poi abbiamo ipotizzato Un Optimus Del sud E si presenta come Prime Octopus Octopus In quanto del sud Che non sa neanche pronunciare Il suo nome Vabbè No Una che vi voglio fare Io invece Che non ho scritto Invece sì Come va Qual è invece Ci deve essere Una pagina di meme Codiate Cioè tipo Noi ce n'abbiamo Di podcast Codiamo soprattutto lui Di podcaster Gente Tutte cose Odio tutti Daniele Dinti Non ho capito No Daniele Dinti No per carità L'unico pelato che rispetto Quindi Siamo tranquilli Un saluto a Daniele Perché è vivo Perché C'è anche voi Lo amo Lo amo Lo amerò per sempre Qual è una pagina di meme Vista proprio sul cazzo Rapide Che cazzo fa Mon giro Rapide meme Sto pensare Che quelli C'è stata una scontata Che la dovete dire Perché tanto si sa Per forza No ma neanche li odio loro Però hai già capito Non li consideri Non li consideri Nel senso che Primo step dell'odiare Ecco qua Com'è Patrizio Com'era Capito Lazio Laziale Laziale Ponderato Bravissimo In realtà Possiamo dire No Avete contattato prima loro E vi hanno dato buca Diciamo No No L'abbiamo contattati No no Stavo per contattarli E poi Flavio Ha detto una cosa E io Ho usato quella lista Che abbiamo No non è vero No io non odio Laziale Ponderato Perché sostanzialmente Loro provano a fare Quello che facciamo noi Ci sarà una pagina Provano a fare Quello che Il discorso è che Io sto veramente A casa tutto il giorno A fan meme Questo è tipo È tipo Veramente Kanye West Che mette nella chat Travis Scott E tutti gli altri Gli fa Io ho più sordi Di tutti voi Provate a fare Quello che faccio io Tu così hai fatto No nel senso Io per No senza noi Vedere come ne esce Per delle dinamiche Che si sono sviluppate Nella mia carriera lavorativa Mi sono ritornato a fan meme A tempo pieno Cioè io faccio Il mematore Di lavoro Ah io no Io no Assolutamente no Io faccio i podcast Adesso Da oggi Con i soldi Questo mi permette Di avere più tempo libero Più tempo da dedicarla a pagina E dargli una struttura Di una pagina social Che pubblica costantemente Quindi Nell'ultimo anno Noi siamo cresciuti In una maniera esponenziale Quanto pubblicate? Noi pubblichiamo Una galleria Io vi seguo Però quanto pubblicate? Da ieri Io vi seguo per strada Allora di media Giornata normale Va una gallery al giorno Che cazzo vuol dire Una galleria Una galleria È presente in Monte Ah ok Cioè noi pubblichiamo Ci membri a meme Al giorno Poi dipende da Commento di Taira O se c'è soldi Tu fai le foto così Te fai sei foto Arletto Intanto Content 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 No no Infatti il content suo Mi piace da morire Infatti In realtà So io È il mio ghostwriter Io un giorno voglio Comparire con Davide In un tuo box Vorrei che ci fossero Le nostre foto In un mio box A piazza Gasparri Comodissimo De la finta Se vuoi Va bene Vuoi comprare in quel box Non c'è problema Un box Anche se condominiale Dovrai comunque pagare Una ratta Una ratta Un box alla palpiction Questa la tagliamo Perché solo tu Puoi avere le gambe bugate Io mi sto facendo nemici Le persone più cattive di Ostia Quindi proprio No vabbè Minchia Dieci Ma tutti i giorni O a volte di più A volte di meno Tendenzialmente Uno al giorno Va sempre Poi se ci stanno partite Se succede qualcosa Dice particolare Avete mai fatto il ragionamento Questo meme Non mi piace Però sicuro Fra tanti like Lo metto Tutte le volte È stato lo switch Che c'ho Io in questo podcast Decisamente Io adesso Ma te stai dicendo Che non siamo simpatici No sto dicendo Che questo podcast Non mi piace Giulio che si ritrova Spesso a pubblicare E sta cosa succede E la cosa della galleria È proprio questa Cioè Metto dieci meme Pure se due Non mi piacciono Certo Almeno sette Poi invece vanno Esatto No ma magari A te te ne piace uno E tu metti il cuoricino Vabbè ce sta Ce sta E infatti Questo ci ha portato A aumentare un sacco Le interazioni La reach Vabbè tutta roba Lato social Che ha portato A crescere tanto La pagina Che a novembre Stava a 25.000 follower Ma sta a 90.000 Che comunque Possiamo dire Che state a 90 Sì Sì Pure Sui social Potete Chiudere la pagina Finché non esce Questa puntata Per favore Perché se poi Arrivate a 100 No ma ancora non siamo A 90 L'ho detto apposta Mamma mia Una fiducia Nell'engagement Che Sì Face Ha detto Ma risposto benissimo Ma se non l'aveste fatta Sulla S Roma È tipo la loro vita Guarda come sono rimasti Sono rimasti Cazzo Ah no io Tu ne avevi un altro C'era Dark Polo Gang Shitposting Saluto tutti i fratellini Perché fratellini si chiamano Sì C'ha 35 anni Sto pischello C'era nel 2004 33 il 18 dicembre Fatemi gli auguri Merde No no Ho dato delle merde Al vostro pubblico Facciamo di peggio noi Quindi No Diciamo che Io Diciamo che mancava Una pagina di meme Sulla Roma Quindi È proprio caduta A facciuolo Penso manchi tipo pure Sulla Ferrari C'è sulla Ferrari Vabbè che c'ha 12 follower Probabilmente sì Non lo so I meccanici Si può memare su tutto Il discorso è Di trovare una community Avvelenata Che la prima cosa che fa Quando c'è un evento Adesso ha da memare Dov'è la pagina meme Di Mortacce A parte noi Ammola 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 C'è una domanda Dobbiamo cambiare argomento Questa domanda Molto Però devi stare attenti Vai Carichissima Perché è un po' elaborata Una persona del mondo del calcio Che non sopporti vesta casual E che preferiresti Si mettesse un bel completo Valentino Possibilmente nelle ore mattutine Totti C'è un personaggio che vorremmo dire Ma non possiamo Tutti lo vogliamo dire Non si può dire quello Quindi andrei su Anthony Taylor Aspetta che intendi per completo Valentino Forse è una battuta che non ho capito No Un completo manchi Completo elegante Quando ti vesti molto elegante Allora ritiro tutto Sai quella cosa Ritiro tutto Ragazzi il pakistano più sagace Per me Ma a me mi dici completo Valentino Io mi stavo a vedere la sfilata L'altro giorno Penso capito Che pagliaccio In passerella Guarda 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 io che pagliaccio C'hai una maglietta Che ho scritto Slobo da Navicimana Navicima Libertà ai tifosi Mamma mia Che cazzo Una puntata sul calcio Che lettera è invece Questa è una n È una 1, 2, 3 5 numeri romani 5 di reggina cieli Ok Possiamo parlo Ecco forse Caratteri cilidi Volete innemicarvi anche gli ultras? No Ma sì Che poi sono persone ragione euro E quindi ci finiremo Io non capisco Possiamo parlare Una cosa Comunque nedved Va bene Tu taylor E tu nedved Totti vi regala Un milione di euro Che ci fate? Perché proprio Totti ti regala Un milione di euro Perché poi Avaginata a Roma Chi la deve da Ma hai visto come è stato a Totti? Toglie pure un milione d'euro Vabbè Totti vi regala un Rolex Che ci fate? Un momento Lo riscuisco Al legittimo proprietario Un momento Totti non ce l'hai Rolex Non è l'antarico Non è solo Ma è stato uno in saccoccia Gli era rimasto Che ci fa un milione d'euro? O stadio Allora Tu devi prendere Il 30% Lo metti da parte Il 50% Lo investi Il resto ti balli la fresca Ma pure di più del 33% Eh scusa Non faccio niente senza tasse io assolutamente Pago tutto Esatto Costa faccia Chi è qua che ha la partita IVA? Io Alzi la mano Ah io l'abbasso il più possibile Ah Non fatturo Che devo fare Quindi la fessa non si fattura più Però mortacci fattura Che squadre coinvolge questa partita di cui parlano Lo giuro ci sono i documenti È tutto scritto Che droga Si fattura la Sisala a quanto pare No Ravidememe è la persona che dopo Non dico neanche chi è Che mi ha portato sulla strada della ludopatia Delle scommesse una settimana fa Accanto quando non c'era questa persona C'era Ravidememe e dice Oh famosa è una giocata Famosa è una giocata Famosa è una giocata Come è andata? Male Ha perso tutte Ragazzi Non scommettete Ragazzi non scommettete A meno che non ve lo sentite Che è proprio quella giocata E vi fa svoltare Ragazzi non smettete mai di scommettere Perché sia da un passo Il 98% Dei grandi scommettitori Smette Prima della grande vincita Esatto Mi dissocio Non mollate mai ragazzi E non stiamo incentivando il gioco d'azzardo E fatelo solo per divertimento Domanda per testare Essendo gioco I vostri valori Come il calcio Tra l'altro Un gioco come il calcio Ma che ci fai Se ho fatto le analisi da poco Sono ancora nella norma I miei Allora Domanda per testare La vostra etica Che non esiste Zero Ora vedremo Poi ti arriva da lui La domanda sull'etica Che cazzo vuoi? Allora Uno sceicco vi contatta Sì Sono io 20 euro Bandiera a Giappone Guarda io ho un'etica Ma 20 euro sono 20 euro Ho solo detto uno sceicco Ho solo detto voi Siete così arrapati di soldi Non ci si crede Allora uno sceicco vi contatta E vi chiede di rinunciare Ad essere Roma sceic posting E dedicarvi interamente Al Shabab Al Mulawad posting In cambio di due donne ciascuno Accettate? Ovviamente sì Non scopano coi meme Questo era tra parentesi Accettate? In cambio solo due donne Però sì In realtà è un malus Cioè dopo tu queste due donne Perché lo stai facendo Lo stai facendo comunque appunto Perché sono donne arabe Al Shabab Poi le devi mantenere Non è donne più soldi È un cazzo di bruttosa Allora Per ora è un'inculata ragazzi Allora Ammetti che non le mantieni Che te fanno? No ma in generale Cioè devi comunque Fa musulmano Questo è l'ultimo dei problemi Sicurati Ma permette Posso dire Vi dovete circoncidere Alla vostra età Soprattutto Non era come Quindi devo fare il cazzo Gabriele me No 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 Pure l'islam Lo devi circoncidere È solo Però così Così levo il 40% Dalla lunghezza Cioè scusate Podcast di uomini Mortacci Mi devo fare il cazzo Gabriele Il cazzo Gabriele È incredibile Ma due posti Torniamo al discorso Di Anna No È finito quel discorso No Comunque io no Anche perché Comunque dovremmo A parte le due cose Collimano Perché ti danno due donne Quindi i rischi di scoparci E noi abbiamo detto Che chiuderemo la pagina Quando scopriremo con i meme Per aprire al Shabab Ma posso farlo senza le donne Cioè voglio solo aprire la pagina Cioè voglio solo aprire la pagina Dei meme sul calcio Aprivo Ma esisterà Ma sono accettati i meme in Arabia Intanto Oddio Mettiamo due shabbole Invece delle stanghette Che ha Shabab Capito Mecca posting Mecca post No Quello forse no Sulla religione non è andrei troppo Però sul calcio Sì Non esisterà Hanno aperto un mercato Famo sto deal Famo sto deal Apriamo una pagina Ma fallo te Famo sto deal Mi era una sconsata Accetto con me stesso Di aver aperto una pagina Di calcio arabo Se a me me levano le gambe Allora la testa Ecco Quindi No no Ma ragazzi Viva Cioè Viva Ma sì ma viva Dio No scusate Saluto al sole No Quello che dico è che Si apre una pagina di meme Magari i fruitori non saranno proprio Della rabbia saudita Ma di altri paesi Ah sì ma allora Ma fatelo sul cricket Ah sì in India Due miliardi di persone Il cricket C'hanno Tutti No per scontato che tutti parliamo il pakistano No ma poi parlano tutti inglesi Parlano inglese con un simpatico accento No Fallo No L'accento è scritto Quindi È su Instagram Non può esserci accento È tutto scritto Fallo Lo so che lo vuoi fare Lo so che lo vuoi fare Non fare accenti Allora puoi leggere un meme Che faresti su cricket posting Se non ci hanno chiuso Al minuto 6 Non ci chiuderò No 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 Non lo farò Non lo farò Stai sereno Me lo fai per favore No non posso Non posso Peccato Perché è molto bravo L'ho sentito già Quindi so che è molto bravo Non è vero Dai Adesso sono molto contesto Ma una bite of water L'ha fatto lui L'ha fatto lui Non l'ho fatto Non mi parla normale Come parla a casa Non è che L'ha fatto nulla di difficile Lui può C'ha il pass Da quello che so Sì è vero L'hai pass Ho semplicemente parlato inglese Io Ho detto vorrei comprare Questa tua propensione A essere un tassista Invece Questa cosa viene Dal fatto che vorrei Vadere il fisco Parole dure Cut Cut Domanda da bar Masta Roma E quando esce la puntata Dipende da quando esce Tra l'altro Altra schedina persa Per il pareggio di ieri Col Torino Vorrei dire Hai dato però Diciamo Hai fissato nel tempo Questa puntata Non mi frega un cazzo Ho perso una schedina Fisso quello Non avevamo fatto neanche Un riferimento a Napolitano E non era neanche fisso Il risultato Visto che avevo messo Uno o due E che mi fanno Mi pareggiano Vatti a giocare a Roma Senza sicuri il cazzo Domanda da bar Io Traggo sempre Delle indicazioni positive In questa nube Densa e nera Che è il campionato Della Roma finora Quindi Pensavo malagrotta Sono abbastanza ottimista Nonostante Intorno Ci siano Macerie e resti Perché mancano Solo 33 partite Per cui io sono ottimista Perché mancano solo 33 partite Poi è finito No mancano due partite Questa chissà Quando esce questa puntata Ma quando finirà Il calcio Mai Ma perché Perché la gente Cambia moglie Cambia fede Cioè noi siamo convertiti All'islam Per gestire la pagina De meme Però la squadra di calcio Non la cambia nessuno Quindi la vedo difficile Ma non la squadra Il calcio Se non cambia la squadra di calcio Lo smetti manco Io penso che finirà Perché se ci pensi 2000 anni fa Il calcio Era gente sgobbata Dai leoni Dentro all'arena No? Se si tornasse a quello Ad esempio il calcio Io lo seguirei Il calcio Quindi tu oggi Hai appena pensato All'impero romano Giusto? Oggi tu l'hai pensato Ho appena fatto Ora è solo la decima volta Che ci penso Nell'ultima ora Grazie Esattamente così Che è andata Abbiamo anche beccato Il meme del momento Cioè ragazzi E questo Va diretto su tiktok Questo era il meme del momento Quando abbiamo registrato La puntata Tre mesi fa Era il meme Ve lo ricordate A proposito di meme Diciamo I meme morti Facciamo una lista Di meme Voi siete tre Mimers Io personalmente Allora fammi pensare Meme morti Ad esempio Il metti Sorbacche A coglione Ma aveva alogorato Ma che sta parlando? Ma che lingua è? Che devi mettere? Allora Presidente La Roma Aveva acquistato A gennaio Un calciatore Da una squadra Norvegese Di nome Solbaken Questo giocatore Ci aveva fatto Tipo tre gol In due partite Quando l'abbiamo incontrato In Europa Sembrava un fenomeno L'arriata alla Roma Murigno non l'ha mai fatto giocare Per i primi mesi e mezzo Da quello che so È una cosa che Non capita poi Spesso Che la Roma Prende l'imbarcata europea No è rarissimo È capitato quelle tre Quattro volte Che però ci sta In una storia Multimiliardaria Di trofei Sì E quindi niente Era nata un po' Sta cosa Perché c'era Questo allone misterioso Questo giocatore Che ci aveva fatto Tanto male Ma che la Roma Non schierava mai E quindi tutta la gente Chiedeva Col meme Quello del Sefardito De schierasto Solbaken E quindi era diventato Un meme Metti Solbaken A coglione Meme che ha fruttato Quello che serviva Perché poi Solbaken Ha giocato Da titolare Una partita Con la Roma Col Verona Facendo gol E questo ci ha portato Tutte gnocche Strano Peccato che L'80% Di zero È zero Arato Distrutto Anche se non ci credo Una grande calla Maria Calla Però stiamo Scusate Stiamo tornando Parliamo dei meme morti Tu hai nominato Sorbacchi Sì Secondo te Un meme morto Che proprio Non ho dei più sentiti Ma io non dicevo Solo i vostri meme morti Cioè tipo Io c'ho un meme morto Che è vero Del gruppo Chiamarsi MC Giusto Che continuo però a dire Perché è ancora vivo Quel gruppo Sì Non fanno Nulla che c'entri con la musica Io pensavo fosse un gruppo Sul fast food Chiamarsi Mac Però no Poi ho capito Che era Sulla musica Sto pensando A meme morti Musica Aia Pesante questo Questa è una frecciatina A rap A rap In generale Che non è la vera musica A questo linguaggio giovanile Non è come Totò Cutugno E sto leggendo tutti i nomi là dietro Toccami Ah no Ho sbagliato Peppino Di Capri Toccami No io sto dicendo che Una pagina che Non è per me o mai morto Però o mai o mai c'è Da un botto di tempo Però mi fa sempre rire Quando lo vedo È quello Guarda chi c'è Quando muore qualcuno Arambe Quello è bellissimo Ah no Non so cosa Dai quello dell'aldilà Della scalinata del paradiso Sì Con tutta gente famosa morta Ah anche tu qua E quando muore qualcuno Matteo Messina De Naro Capito che cammina Napolitano Arambe Ma poi A me piace molto La rapidità d'esecuzione È immediata Se non è in automatico C'è un AI Che lo fa subito Tu devi essere pronto In qualsiasi momento Perché muore personaggio X E dopo due minuti C'è online Ma io lo scopro dalmeno Ma guarda chi c'è Perché c'è Tutti i personaggi famosi Al paradiso Che fanno No ma guarda chi c'è Il migliore Ecco Finalmente Ti stavamo aspettando E poi c'è il morto Che sta così Saluta e fa Tranquilli ragazzi Sono in buona compagnia Impazzisco Ma che cazzo è È bellissimo Cioè se fossi nato io Nel 2006 Quando è morto mio nonno Io l'avrei fatto al funerale Guarda chi c'è Enrico Che nel 2006 Tu avevi già 40 anni 43 43 per la precisione E poi l'altro meme Che per me È il contrario di un meme morto È un meme che ancora Deve uscire fuori È quello di Claudio Amendola Con lo stracchino E gli scarafaggi Su le mani Il bagaroso No quello è già uscito No no Ancora Secondo me ancora Non è stato No 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 Era Un giorno Mi sa Dzeko poi Un giorno Su sto Dzeko Sto vecchio gruppo Quindi parliamo di Cinque anni fa Misero una foto De Amendola Vestito penso Da Le Iene Così con lo stracchino Non non anni Su una mano E sull'altra C'era due Uno scarabbeo Scarabbei Che facciano sesso E la descrizione Era Questo meme Viene dal futuro Non si è ancora in grado Di capirlo E noi aspettiamo Tutti quel giorno Vabbè ma è tipo Allora quello di Among Us Sì Ok Esatto Incredibile Però è così Per me è un meme Che deve ancora Nascere E cosa dovrebbe Cosa succederà Eh non lo so Lo capiremo È il viaggio E io voglio stupirmi Non è la destinazione È il viaggio È gli amici che ti fai Lungo il percorso Giusto Esatto Maia Adesso ho solo cose Terribili in mente Su quel meme Tipo la produzione Dello stracchino Da cosa può derivare Il fatto che Amendola guardi Due scarabaggi Fare sesso E ne produca stracchino Capito Il mio cervello Va un pochino Taglia Sei andato un po' troppo dito La parte di Anna Frank La teniamo Ma questa Questa è troppo Se si taglia Taglia Grazie per te No no Vorrei altre domande Di Davide No una domanda Che non mi sono segnato Ma che devo fare Il calcio femminile Che Continua Io lo approvo Secondo me le donne Dovrebbero essere pagate Quanto gli uomini Io ho una mia visione Ho un mio pensiero Allora noi Abbiamo assistito Che è il problema principale Del calcio femminile Abbiamo assistito Alla più grande partita A livello di pubblico Del calcio femminile In Italia Era una partita Di Women's Champions League Tra Roma e Barcellona Champions Abbiamo perso Solo E moci del caffè E È stato figo Dove dire È stato figo È stato figo Perché è un movimento Che è molto in crescita E mi permette Di dare una risposta Politicali corretta Che non mi possa Fare attaccare È in crescita Perché Perché Ti stanno Più o meno Obbligando A vederla In un modo Nel altro Stanno facendo Stanno facendo No lo dico io Secondo me Stanno spingendo tanto Un argomento Un prodotto Che altrimenti Non avrebbe avuto Quella risonanza Secondo me Perché Io capisco Qualitativamente parlando È ancora Il ragionamento alla base A me mi piace il calcio Che te frega Se giocano uomini o donne Se fosse altrettanto Spettacolare Anche a me Piacciono i porno Tra le esbiche Ok Non so cosa No però dico Attualmente sono Uomini Podcast di uomini Bianchi Maschi Bianchi 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 Tre quarti Tre quarti Cioè se tu dai Quello il tocco di Efervescenza Non tu Giulio Tu Il fatto è che Il calcio femminile Diventa ridicolo Nel momento in cui La porta Mi dissocio È come quella Del calcio maschile Il portiere È alto 1,60 1,70 Allora Se venisse Ricalibrato il campo Come succede Nella palla a volo In altri sport Secondo me Sarebbe Uno sport Godibile Io ti dico la verità Io non ho mai visto Una partita di calcio femminile No Di calcio in generale Ho solo visto No purtroppo Di calcio sì Ho solo visto Meme su tiktok Storie di Bambino Di 15 anni Batte Nazionale Americana Queste cose avvengono Io mi baso Su Il predominio fisico Vabbè ma quello è Normale Però di base Non penso sia Ugualmente Spettacolaris Ma non può essere Su un campo De 100 metri Quindi tu dici La risposta è Sistemiamo il campo Tipo già uno sport Un po' più tecnico Tipo il calcio a 5 Femminile Secondo me È già più divertente Potrebbe essere Street FIFA Esatto Il calcio a 5 è uno sport Con il bidon Ci può stare No Però questa domanda Che hai detto L'ho fatta Un istruttore FGC Che si occupa di calcio femminile Quando ho fatto Il corso allenatore Io Tu hai fatto il corso allenatore Certo Perché io sono pagato Per stronzare su Aroma Però ho fatto pure il corso allenatore Però non lo uso Ok 4-4-2 Quanto fa? 10 Ma lo sai che i moduli Non si contano Ma se gioca in 11 Lo sai che i moduli Si enunciano Contando anche il portiere È 1-4-4-2 Sbò Direi Sbò È arrivato il secchione È arrivato Ha studiato Una volta ha studiato Loro mi hanno detto Però tornando a questo Loro mi hanno detto Che il problema Non ci vale a quel punto Non sarebbe tanto il fatto Che il campo è Troppo grosso Ma che dovresti Fornire al calcio femminile Infrastrutture nuove Cioè tu dovresti avere Un campo da calcio femminile E un campo da calcio Costa 200.000 euro Vabbè metti Dei cinesini Che fanno La porta Non ho capito Perché devono essere cinesini Adesso Quando possono essere Di qualsiasi etnia E perché Pakistani Tra l'altro Pakistani Quanto vuole far lavorare Il proprio popolo Questo ragazzo Sta risolvendo Quanto è patriottico Pregiudicati di ostia Cioè Perché devono essere cinesini Pregiudicati Questo è un pregiudizio Direi No no È dire Invece no Facciamo lavorare anche i pregiudicati È proprio il contrario Vedi Il pregiudizio ce l'è qua Secondo me non è Completamente una battuta Quella di Tahir Secondo me non sa Cos'è un cinesino Lo sai cosa sono i cinesini? Ah cazzo Ma è vero Ho frainteso tutto Allora Non c'entra niente Non c'entra niente Quella legge del secondo figlio Che hanno fatto in Cina Ti dico solo questo Pensavo tu dicevi Facciamo fare a dei cinesini Il campo Mettiamo dei cinesini Così non costa 200 mila euro Ci farà buttare a casa Signore e signori Il razzismo Eccolo qua I cinesini sono qui Non lo so Non ci so Però mi è arrivato Perché c'ho Vedete la cassa male però E tu sì Ho detto Metti i tui cinesini Il campo Il campo costa 200 mila euro E mettici i cinesini C'è il pestrigno il campo Ma no Ma è quello che vuol dire Perché sono arti come le donne Deve costruire La cosa è costruire uno stadio nuovo Mettici i tui cinesini Ma che cazzo ci fai Perché sto parlando di stringere il campo Perché così stringi il campo Eh lo so Però non c'è un'infrastruttura nuova Quanto bello Quando editeremo sta cosa Cioè editerai Teire se taglia Incredibile No sarà bellissimo La taglierò Un momento più alto del podcast Probabilmente la taglierò Sì forse sì Che sarei cinesini Sì C'è un quarto d'ora di registrazione Voglio spararvi la chiusura Guarda sinceramente da te Cioè Me la sped Perché diventa una cosa così razziale Da te mi devo aspettare Un insulto razzista O una strategia dell'infrastruttura Per stringere un campo di calcio La seconda Ok Stiamo parlando di quello Ok L'ingegner rapide Grazie Ricordiamo Allora siamo arrivati in chiusura Dopo aver risolto i problemi Del calcio femminile mondiale Posso dire Forse poi è una cosa che adotteranno Anche per l'NBA Tutti quelli altri sport Mi aspetto la Cina Campione del mondo La Cina Campione del mondo Quindi Ringraziamo innanzitutto Lavinia Dietro la telecamera Luma Recording Studio Per L'audio Per far sentire Tutte le nostre cazzate Ringraziamo sempre Hit H-I-T Per la grafica E Lil Sik Nick Sik Per la sigla Che l'altra volta Non abbiamo ringraziato Grazie mille Soprattutto I nostri ospiti Flavio e Giulio Grazie a Locale che ci ospita Grazie a voi ragazzi È stato un onore Può essere un merito Lo possiamo dire Mettete il follow a Sik Posting Ma anche alla nostra pagina Mortacci Show Anche se siete Tifosi del Sassuolo Soprattutto Mi devi dire qualcosa? No Non mi devono dire nulla Ho fatto tutti i ringraziamenti giusti Che cazzo Grazie 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 a tutti Ciao a tutti